Buongiorno, sono Marco Neri, Vice Presidente della Federazione Italiana Fitness e come tante altre volte volevo invitarvi a un'iniziativa che secondo noi è certamente centrale e interessante per tutti i tecnici di fitness. Infatti in occasione di Rimini Wellness il sabato ci sarà questo convegno gratuito che riguarda la figura dell'istruttore sportivo dilettante. È un tema estremamente vasto che vedrà tutta una serie di professionisti che andranno ad analizzare quali sono i titoli che abilitano a svolgere questo tipo di attività e quali sono poi tutte le varie prerogative dal punto di vista fiscale che riguardano sia i libri professionisti che gli operatori che lavorano all'interno delle ASD o SSD. È un mondo molto complesso dove molte informazioni non sono sempre perfettamente lucide e quindi abbiamo cercato di fare chiarezza. Ci sarà l'avvocato Enrico Mercurelli che funge da coordinatore e quindi terrà le fila di tutto questo evento. Poi avremo una serie di illustri ospiti tra cui Bianca Maria Stefanello, Stefano Andreani, Massimiliano Chieppa, Barbara Agostinis, Venerio Brenaggi, Federica Caccaria e che insieme a me tratterà una parte relativa alla legge 4 2013 che è una legge che forse è stata poco utilizzata che serve per assicurare la professionalità di tutte quelle attività che ancora non sono riconosciute. Un evento quindi molto importante dove ci sarà possibilità di fare domande, si parlerà dell'elingo delle attività CONI eccetera. Credo che tutti i tecnici che hanno a cuore la corretta gestione della loro figura debbano partecipare insieme ai datori di lavoro e chi gestisce ASD e SSB. Ci vediamo a lui.